Buongiorno a tutti voi. Il percorso scolastico che state per iniziare sarà bellissimo e ricco di meravigliose esperienze culturali. Anche se vi sentite un po' emozionati, state sereni, perché la scuola è l'obedeale per crescere umanamente e culturalmente. Bravi ragazzi e bravi cittadini si diventa, imparando a condividere con gli altri talenti che ciascuno di noi possiede. Il filo conduttore di questa accoglienza è infatti imparare, condividere per essere liberi, responsabili e protagonisti. Anche quest'anno la scuola porterà avanti, nell'ambito del progetto dell'Erasmus, una serie di iniziative che favoriranno il confronto culturale a livello europeo. E saranno per tutti, docenti e alunni, occasioni di crescita e di miglioramento, oltre che di scambio culturale. In questa scuola troverete tanti docenti che vi faranno apprezzare le materie come l'arte, la storia e le scienze. E imparerete le lingue straniere come l'inglese, il francese e lo spagnolo, apprezzerete la musica e farete tanto sport. Vi saranno opportunità per imparare e stare bene insieme. Scoprirete che gli altri sono un dono, un'opportunità per costruire un dialogo, per conoscersi e apprezzarsi, perché ognuno di noi è un tesoro per l'altro. L'accoglienza è l'atteggiamento che permette di iniziare con successo questo nuovo anno scolastico. Auguri a tutti voi, buon inizio piano scolastico e per finire il caloroso benvenuto alla nostra nuova preside, Petri da mica, come Giuliani Pellaro.